i tag conferenza stampa palazzo montecitorio siamo proprio un cuore istituzionale qui a roma camera dei deputati sono con la fondatrice che anche un'amica manager paola puzzovio di i tag ciao paola benvenuta come sempre su mhr tante le novità quest'anno commentavamo anche con concetta con paolo davvero tanta carne al fuoco sì tanta tantissima direi anche del pesce faceva ci vuole visti i tempi bisogna diversificare unconventional e allora facciamo un riassunto un risume di quanto detto risume velocissimo due giorni 19 e 20 giugno a lecce in una location pazzesca storica che riapriamo noi dopo dieci anni di chiusura quindi con un progetto doc di cui si stanno occupando gli architetti amico allestimenti srl l'architetto lagna sarà lagna e noi partiamo con formazione ovviamente conferenze talk ma la formazione quest'anno come insomma avete sentito è un'altissima formazione anche con dei crediti dei riconoscimenti ma mirate cioè per i giornalisti per strutture ricettive per tutta la parte della sostenibilità conferenze legate diciamo ai talk con più relatori nazionali internazionali che si occuperanno di raggiungere un obiettivo insieme cioè quindi alla fine dei conti a parte dire parlare come ragioniamo su questo aspetto come lo chiudiamo cosa possiamo andare a fare come sai sempre molto operativi e ovviamente fruibili per tutti quegli operatori che sono vicino al progetto ma non solo ai tag del comparto del turismo gastronomico tante belle presenze dal piemonte in giù quest'anno abbiamo veramente delle grandi partecipazioni di partner della formazione di operatori di o tanti partner che stanno collaborando per una edizione speciale sia come sai ci teniamo tantissimo ma soprattutto delle incursioni teatrali incursioni artistiche musica trieste in giù questo caso lo facciamo dal piemonte in giù e sì abbiamo un piccolo per un po con la danza col pop vabbè ci parte la carrale alla fine assolutamente deputati e fantastico assolutamente sì una delle tante è una cena degustativa con un sommelier cieco Luca Boccoli che verrà per un suo format e faremo il 18 sera il 19 sera faremo un abbinamento musicale e dell'alcol nel senso che la scaletta musicale e alcolica andrà di pari passo una figata Silvia anche perché in questo salone degli specchi che è una sala pazzesca con un pianoforte sax e i sommelier di ice che sono nostri partner vorrei elencare tutti i partner affiliati mi dispiace ovviamente non abbiamo il tempo di farlo ma li ringrazio tutti perché anche questa edizione anche questo evento esiste grazie alla partecipazione di tutti loro e dei nostri professionisti e team comitato scientifico e tutti coloro i quali da anni ormai lavorano in questa direzione con me grazie grazie a voi seguirò ti seguirò anche noi bellissima i tag in bocca al lupo grazie paola grazie che vulcanica sempre Silvia noi ci vediamo in pista esattamente vi aspetto a Lecce 19 20 giugno mi raccomando non mancate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti